Buongiorno a tutti, allora delibera di giunta numero 28 del 29 gennaio 2015, tenuta schedario elettorale, poi delibera di giunta municipale la 29 del 29 gennaio 2015, l'ITA, l'ITE Evola contro il comune di Alcamo, se Evola vince, il signore Evola vince, naturalmente debito fuori bilancio, ed io pago. Delibera di giunta municipale la numero 30 del 29 gennaio 2015, l'ITE rigi contro il comune di Alcamo, se il signore Rigi vince, debito fuori bilancio, ed io pago. Poi delibera di giunta municipale la numero 31 del 29 gennaio 2015, mobilitazione permanente dei comuni siciliani, poi abbiamo una delibera di giunta municipale la 32 del 31 di gennaio 2015, proroga il rapporto di lavoro a tempo determinato, assente chi sono il sindaco, l'assessore Culmone e l'assessore Selene Grimaudo. Andiamo avanti e parliamo questa volta della determina di licenziare la 162 del 5 di febbraio 2015, liquidazione e compenso spettante al personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato appartenente al corpo di polizia municipale e ai settori servizi tecnici per servizio prestato in turnazione nei mesi ottobre, novembre e dicembre del 2014. E quindi richiamate tutte le situazioni qua che c'è scritto, rilevate le ore di effettivo servizio ritenuto potersi procedere alla liquidazione, determina per i motivi espressi in premessa di imputare la somma complessiva di 20.127 euro, quindi questa è la cifra, e di liquidare e pagare il personale dipendente agente di polizia municipale. Le somme a fianco indicate di ciascuno sono quelle che servono per la turnazione ottobre, novembre e dicembre. Dice allegato A, allegato B, allegato C, nella delibera non c'è nessun allegato A, B e C, questo per dirvi quanto sono comprete. Andiamo avanti e parliamo della determina 163 del 5 febbraio 2015. Liquidazione di compenso spettante al personale dipendente vigili urbani, assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato, ad orario pieno e ridotto, per servizio di reperibilità prestato nei mesi ottobre, novembre e dicembre. Quello era per turnazione ottobre, novembre e dicembre, questo è per reperibilità ottobre, novembre e dicembre del 2014. E quindi richiamate tutte le deliberazioni del rito, determina per i motivi espressi in premessa di imputare la somma complessiva di 6.507 euro nel bilancio dell'esercizio in corso, come previsto, e cioè di liquidare e pagare in favore dei vigili urbani, assunti con contratto a tempo determinato in determinati, ad orario pieno e ridotto, diciamo, le cifre nel prospetto allegato A e B. E anche qui manca naturalmente il prospetto A e B, e questo per dirvi quanto sono belli precisi. Andiamo avanti, andiamo avanti e passiamo a parlare invece della determina 58 del 23 di gennaio 2015, liquidazione fatture alla ditta SIAR-SRL di Salerno per fornitura di arredi scolastici. E allora, diciamo, il dirigente di settore ha richiamato tutte le determinazioni dirigenziali, viste le fatture, determina di liquidare alla ditta SIAR-SRL con sede legale a Salerno in via Francesco Crispi 3436 la somma complessiva di 9.600 euro per la fornitura in premessa. Qual è la fornitura? La fornitura sono arredi scolastici. Io non è che voglio fare il bastian contrario, però quando ero preside mi servivano pure queste forniture scolastiche e non andavo assolutamente fuori dalla Sicilia, anzi andavo vicinissimo alla provincia. Io ero a Camporreale, quindi addirittura andavo vicino a Partenico, dove c'è una ditta che fa banche, sedie, tutto l'arredamento scolastico con prezzi abbastanza comprensibili. Quindi non capisco perché noi dobbiamo essere sempre amanti di carne strana, ce ne dobbiamo andare sempre fuori a fare guadagnare agli altri, ma ognuno naturalmente fa quello che vuole. Andiamo avanti e vi leggo un comunicato del 16 gennaio, ma no non ve lo posso leggere perché non ve lo posso leggere perché mi hanno già fatto cenno che purtroppo non ho più i miei tre minuti a disposizione, quindi vi ringrazio come sempre della vostra cortese attenzione e ci risentiremo la prossima volta. Grazie.